Questo è un po' di... dell'aio con... Ah, c'è un po' di... dell'A50 Ho un po' di 40 da via Quello rosso che mi hanno, ecco Se n'è un altro, che c'è un amico lì che gira con l'A50 che è bianco, dell'A60 Eccolo, è un po' di... C'è un po' di... ''C'è un po' di... Qu escaped... Grazie a tutti.